Questo generatore non lo sopporto più, ogni volta che faccio il turno di notte al mio lavoro si deve sempre guastare. Però questa notte è diverso, il mio capo dopo ripetuti eventi di questo tipo mi ha finalmente lasciato andare a casa prima. Ma c'è solo una piccola condizione, ovvero devo finire gli ultimi 5 giocattoli del giorno e così mi devi subito da fare. Fino a quando però cose strane iniziano ad accadere, giocattoli che si muovevano da soli, strani rumori alle mie spalle e infine scoprì anche qualcosa di molto inquietante su quel posto. Oh no, il generatore si è rotto ancora una volta, ma porca di quella miseria, quanto cavolo chiamerà il mio capo un tecnico per riparare quello schifo di generatore che si rompe ogni volta. Però non c'è problema, non c'è problema, perché mi hai detto una cosa, una cosa che mi è piaciuta molto, una cosa, una notizia che mi è piaciuta tantissimo. Se io finisco gli ultimi 5 giocattolini, che sapete questa è una fabbrica di giocattoli, una fabbrica di giocattoli incredibili. Se io finisco gli ultimi 5 giocattolini mi lascerà andare, il capo mi lascerà andare a casa prima, prima che io finisca, prima che dovessi finire io il mio shift. Quindi il mio turno, prima che dovessi finire il mio turno. Ora, diamoci da fare, diamoci da fare così finiamo tutto e andiamo a casa prima, finalmente, non ce la facciamo più. Ok, ok, prendiamoci un caffettino. Non posso prendermi il caffettino, il caffè è vuoto, non c'è più caffè. Porca di quella miseria di lavorare così, durante la notte devo lavorare così. Va bene, ok, sapete, questo posto mi fa abbastanza paura. Ogni volta che vengo qua c'ho abbastanza paura di stare in questo posto, ma non c'è problema. Perché mi dice di seguire la luce, in alto a sinistra devo seguire la luce, quindi seguiamo la luce. E quella lì è l'unica luce che vedo, quindi andiamo verso quella luce, andiamo verso quella bellissima luce. E a quanto pare questi sono i giocattoli che facciamo... Che cosa sono quegli occhi rossi lì in lontanazza? Che cavolo è lei? Vabbè comunque, comunque andiamocene via, andiamocene via, che cavolo... Che cavolo sono quegli occhi... Questa fabbrica qualcosa mi dice che i giocattoli non sono proprio giocattoli normalissimi. Ma che cosa sono quegli occhi rossi lì? Sono spariti? Sono spariti gli occhi rossi... Porca di quella miseria, che cosa cavolo c'è in questa fabbrica? Un ragno gigante mutante! Che cavolo è quella roba? Che cosa cavolo è? Vabbè, non mi importa, a me non mi importa, devo andare in quel punto lì perché devo fa... Ancora! Ancora! Non mi importa, non mi importa perché io l'unica cosa che devo fare è lavorare sui ultimi 5 giocattolini. Se finisco i ultimi 5 giocattolini posso ritornare a casa prima, quindi finiamo i 5 giocattolini ultimi. E' il primo giocattolino, un bel robottino. Che cosa devo fare al robottino? Le pile! Ah, devo mettere le pile, ok. Mettiamo le pile al piccolo robot. Ecco qua! Un giocattolo su 5. Fatto! Perfetto! Ora, secondo giocattolo di un bel teddy bear! Un bel teddy bear, eccolo qui! Cos'è stato? Non lo so, non mi importa. Oh! Porca di quella miseria! Eh, robot? Perché sei qua fuori a girare in giro per la fabbrica? Non dovresti essere qua insieme a tutti gli altri tuoi amici robot? Come cavolo sei andato lì? Sei attivato da solo? Speriamo solo sia un bug di sistema o qualcosa del genere. Voi mi muovete pure? Pure voi mi muovete? O voi state fermi? Speriamo che voi state fermi, perché se no mi spavento cosa tantissimo. Ok, magari era solo un bug di sistema, dai. Magari era solo un piccolo bug di sistema. Eh, non è successo nulla, dai, sì, dai, dai, dai. Non è successo assolutamente nulla. Ando qui ci vediamo un altro piccolo teddy bear! Oh, porca miseria! Non voglio guardarmi dietro! Perché se mi guardo dietro potrei vedere qualcosa di mo... Mi sta respirando sulla schiena! Porca di quella miseria! Lo sentite come mi stavo respirando sulla schiena come un maniaco? Porca di quella miseria! Che cavolo è stato? Oh no! Oh no! Come cavolo mi parla sulla schiena! Oh, porca miseria! Che cavolo è questa cosa? Sei morto dalle manifestazioni delle tue paure! Non sei riuscito a resistere e hai guardato indietro un finale di due! Oh, porca miseria! Quindi queste sono le nostre paure! Sono le nostre paure che ci fanno vedere queste cose che in realtà non esistono! Le paure nostre fanno vedere queste cose in realtà e quelle cose non esistono! Non c'è nulla! Ok, ora sarà diverso! Prima sei riuscito a prendere in brutto mostro schifoso! Guardalo lì! Con quegli occhi rossi! Guarda il ragno, orsetto! Che cos'è? Però ora no! Ora sarò così! Farò pip! 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 Lavorerò tutto velocissimo così fino a quando esplodo! Non mi guardo indietro! Guarda robot! Stai pronto lì che ora ti prendo! Io ti lavoro velocissimo! E non mi guardo mai indietro! Non mi guarderò mai, mai indietro! Non importa qualsiasi cosa succeda! Io non mi guarderò mai indietro! Mai guardarsi indietro! Ok! Mettiamo le pile su questo bel robottino! Lo mandiamo via! Perfetto! Prossimo! 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 Nostro caro amico Teddy! Ciao Teddy! Ciao! Come va Teddy? Tutto bene? Ecco! Si prenda le sue batterie! Sentiamo il rumore ma noi non ci guardiamo indietro! Perché noi siamo più forti di così! Noi c'è una forza della mente! Non guardiamo indietro! Non ci guardiamo indietro! Oh no! Ma questa cosa mi vuole... Voglio stra... Mi fa venire stra voglia di guardare indietro e sentire queste cose! Porca di quella miseria! Senti come cammina! Senti come fa! Mi respira sulla schiena come un maniaco! Porca di quella miseria! Ostra stra voglia di guardare indietro! Ostra... Ok! Porca di quella miseria! Ostra stra voglia di guardare indietro ma... C'ho gli ultimi... L'ultimo giocattolo da fare! L'ultimo giocattolo da fare finalmente potrei andare a casa! Finalmente posso andare a casa questo giocattolino! Ok! Metti le pile! Così! E ho finito no? Ho finito? Non c'è più nulla da fare? Ok! Mi sa di sì! Mi sa che ho finito! Posso tornare a casa? Posso tornare a casa? Posso guardarmi indietro o devo andare avanti così? Ok! Non devo guardarmi indietro! Ok! 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 Ultimo gioco ancora una volta! Questa volta sarà diverso! Ok! Basta urlare così! Porca miseria di pazzo! Mi continuo! Mi continuo a urlare nelle orecchie! Però questa volta sarà diverso! Questa volta sarà diverso! Se continuo a pusciare questo bottone! Magari se continuo a pusciare il bottone mi finisce! E non devo fare null'altro? Non so! Non ne sono sicuro! Però potrebbe essere! Ok! Ce l'ho fatta! Hai ignorato le tue paure! E sei riuscita a sopravvivere! Finalmente! Ce l'abbiamo fatta ragazzi! Questo insegna! Che le paure sono solo paure! Se non le prendete in considerazione! Non possono farvi nulla! Ricordatevi! Ricordatevi!